Senti, che dici? Ti piace? Ma costa poco. Qual è il problema? Qual è il problema, povelino? Va bene, come sicurezza ci siamo, però voglio che ci sia una protezione totale. Ma c'è anche una protezione totale, con il nostro gadget. Vabbè, guarda, la macchina è carina, ma la faccia perde. Ma come no, è carina, peccato che però non c'ha il navigatore, questa ne si perde. Ce l'ho, ce l'ha la navigatrice, ce l'ha la navigatrice, guarda che ce l'ha. Gira a sinistra, va a sinistra, ancora a sinistra, non lì ci vuoi andare a stare su raccordo. Sta andare a stare su raccordo, vieni! Si ho capito, però è una donna, ma lei è una femminuccia. E abbiamo anche la protezione, se è femminile o maschiolino. A 100 metri devi girare a destra, c'è questo ampio raro, tu giri a sinistra, vai c'è un tabaccaro e c'è questo avvicino un palo, un OBI e gira subito a destra. E vabbè, ma le rispetta le leggi anti-inquinamento? Ehm, molto riflettuta le leggi anti-inquinamento. Ma c'è l'ha il filtro FAP, euro 1, 2, 3. 1, 2 euro, è tutto legale complesso, no? Filtro FAP. Filtro FAP. Filtro anti-pakistano. No, no! No, guarda grazie! No, no, no! No! Eh! Beh, senti, con tutti i stop ce n'è, parchiaggio sotto casa, ma c'è là l'antifurto questa macchina. Ah, ma che è questo infurto, senso elitare? Oh, la figlia della mignotta, lascia qua la macchina, guarda che scendo è, sto scendo porco di vero, guarda quelle mani. Oh papà, basta, io sono cinese, non reggo più, andiamo. Oh, che fai di tutta questa cacciata qui, tu offendi me, pure tu offendi me, tu non è stato attualizzato, io solo è stato attualizzato. Oh, ma che sta qua? Ah, attualizzato lancia, pure che fia. Ma che macchina coppia? La più bella lì c'hai? Spero che costi poco, perché... Ma non ti preoccupare, questo è il fatto che tu facci qualche cazzo, capito? E' un portano. Dove fare? Senti, ma le rispetta le leggi anti-claritane? Eh, se culeggia, se culeggia li fettano. Vabbè, capito? Comunque è sempre una banda, il posto a bagagli tra piccolo piccolo. Il posto a bagagli tra piccolo piccolo, ma che dici? Perché ti ridi tu? Sì, posso andare così, non reggo più, se c'è niente. Oh, che cosa che hai detto, questo è mezz'era! Non essere autorizzati! Grazie a tutti!